Grazie intanto di questa opportunità di dialogo con i carissimi giuristi cattolici, dei quali faccio parte da svariati anni. Vita prenatale in una cultura secolarizzata. Due indicazioni di metodo. Vita prenatale è una condizione pregna di ambiguità. A seconda della lettura che ne dia l'interprete. Perché questa espressione vita prenatale può seguire due traiettorie. Una soggettiva. La vita è prenatale quando è intenzione di chi giuridicamente la governa portarla alla nascita. Oppure, un'accezione più definitiva, potremmo dire biologica, la vita prenatale coincide con la vita di un essere umano precedente alla sua nascita attraverso il parto. E quindi già questa espressione che mi è stata assegnata non è innocente, perché comprenderete che a seconda della accezione le conseguenze possono essere addirittura divergenti. Seconda indicazione. Il titolo richiama la cultura secolarizzata. Certo, a noi interessa ciò che avviene a livello culturale e dunque il processo di secolarizzazione della cultura italiana, europea, globale. Ma in particolare a noi interessa, per la deformazione del nostro sguardo, la secolarizzazione della cultura giuridica. Tenendo presente che anche qui è una dimensione ancorata al metodo giuridico. Individualismo, societarismo, comunitarismo. A seconda della lettura potremmo dire che c'è secolarizzazione, non c'è, c'è più adesione su un piano ideale. È stato evocato Sergio Cotta e mi limito rispetto alle posizioni del metodo che la relazionalità, proprio nel parlare in particolare della dimensione umana, è una determinazione ontologica e condizione intrascendibile dell'esistenza umana. Vediamo gli snodi del percorso della cultura giuridica su questo tema affascinante della vita prenatale. 1948, il mondo delle cose perfette. La nostra carta costituzionale. L'articolo 30 della carta costituzionale, che viene poi richiamato, ricorderete, le ordinanze di remissione alla Corte Costituzionale con riferimento alla legge 194, l'articolo 30 dice semplicemente, potrei dire banalmente, che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli anche se nati fuori del matrimonio. Ma ce lo ricordava stamane Giuliano Amato. E dentro quel mantenere i figli, a forse ori, c'è evidentemente anche un custodirne l'integrità fisica sin dal momento del grembo materno. E non ci si è posti il problema per tanti decenni di quale potesse essere poi la ricaduta pratica con riferimento invece alle vicende appunto della vita prenatale. Sempre su questo scenario la dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 afferma che nel periodo precedente la nascita devono essere assicurati al non ancora nato e le parole sono molto evocative. Il non ancora nato nel senso che nascerà, ma non è ancora nato. Devono essere assicurate sia al non ancora nato che alla madre le cure mediche necessarie e una adeguata protezione sociale. 1975 la Corte Costituzionale è la 27 che depenalizza l'aborto dichiarando l'illegittimità costituzionale, lo ricordiamo tutti, dell'articolo 546 del Codice Penale che catalogava il reato tra i diritti contro l'integrità della stirpe. Questa è la nomenclatura del Codice del Trento. La depenalizzazione era riferibile alla parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse essere interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave medicalmente accertato e non altrimenti evitabile per la salute della madre. La sentenza 1975 poi porta all'approvazione da parte del Parlamento italiano della legge 194 del 1978. E' interessante quella sentenza del 1975 perché a un certo punto quando descrive l'embrione come soggetto di diritto poi aggiunge deve ancora diventare persona nel 1975. Il professor Amato conosce bene queste dinamiche perché sono concetti cari anche alla filosofia e alla filosofia del diritto. Perché non c'era in quel momento un consenso unanime della comunità scientifica sulla definizione in questo caso di cosa fosse questa vita in grembo legata all'embrione e la persona sembrava essere qualche cosa che non riguardasse una, potremmo dire, intangibilità dell'essere umano dal momento del concepimento ma legata ad aspetti, fasi della vita fasi relazionali per dire che qui siamo nel 1975 e qui anche c'è una sorta di secolarizzazione della cultura in un humus molto diverso da quello di oggi ma che comunque toccava alcuni aspetti definitori che appartenevano evidentemente a un'elite che non corrispondeva anzi addirittura nei decenni successivi è stata ribaltata questa lettura. La legge del 78 non c'è dubbio che è una potremmo dire una prima crepa dentro la definizione di integrità fisica con la traslazione nell'integrità psichica è un cambio di prospettiva si introduce un nuovo bene giuridico la salute psichica che assume pari rango rispetto al bene giuridico salute fisica sono beni disomogenei evidentemente non comparabili l'uno è misurabile potremmo dire con una oggettiva fisicità la vita del feto l'altro elastico soggettivo legato a percezioni individuali difficili da valutare e in questo contesto il diritto cambia il ruolo non è più potremmo dire il guardiano concezione anche penalistica a difesa a protezione di aggressioni a beni supremi come la salute e la vita ma garante di spazi di libertà individuale e strumento per attuare quelle libertà in quella fase siamo negli anni 70 di temperie culturali è interessante leggere i contenuti di due tra la circa decina di ordinanze di rimessione alla corte costituzionale contro la legge 194 tra l'altro vi leggo piccoli brami per capirci tutti e due siamo nel tribunale di Salerno con prospettive completamente diverse la prima e attenzione al linguaggio non è manifestamente infondata in riferimento ai vari articoli della legge 194 la questione di costituzionalità che consente l'interruzione dei volontari della gravidanza nei primi 90 giorni della gestazione la tutela della maternità che significa tutela della gestante della vita del feto di fronte all'incidenza delle condizioni economiche sociali e familiari solo surrettiziamente legate alla salute della gestante è un magistrato che sta parlando viene ridotta all'adempimento di alcune formalità burocratiche al termine delle quali la donna è libera di abortire senza che nessuno possa sindacare la sua scelta pensate se oggi uno scrivesse queste righe che vi ho letto e quindi poi rispetto all'articolo 2 della carta costituzionale ci sono una serie di giustificazioni che avrebbero richiesto a questo punto la sanzione della illegittimità costituzionale sempre Salerno invece il contesto era che c'erano alcune vicende che erano ante legge 194 che tuttavia se corrispondevano come fatti specie potevano essere successivamente essere inquadrate nella stessa legge quindi diciamo una depenalizzazione retroattiva rispetto alla vicenda e in questo caso la donna che aveva subito l'aborto e quindi era stata sottoposta al reato viene giustificata questa richiesta abortiva e qui è il giudice ripeto che scrive la donna è gobba è sposata ad un ottantenne il giudice istruttore osserva che dette circostanze le avrebbero fatto presumere il serio pericolo di un figlio deforme e consigliato l'interruzione della gravidanza anche per le illazioni e le chiacchiere che il caso poteva suscitare ricorrerebbero dunque le ipotesi previste dalla legge se non che la mancata osservanza delle condizioni cioè non era stata seguita ovviamente la procedura e qui quindi l'incostituzionalità è perché la burocrazia la stessa burocrazia che nell'altro caso che diciamo così banalizza l'aborto quella burocrazia impedisce che si applichi formalmente una fattispecie che invece lo andrebbe a depenalizzare il linguaggio crudo però è il senso di un'Italia che è datata 1975 nella sentenza della Corte Costituzionale del 1981 quindi quella che stabilisce che sono da rigettare tutte queste questioni si afferma che l'interruzione di gravidanza va discriminata quando il compimento della gestazione non anche la futura maternità rappresenta per la vita o la salute della donna un pericolo grave obiettivamente accertabile alla stregua di nessun'altra indicazione fuori che quella terapeutica terza fase di cultura giuridica siamo negli anni 90 e qui incede la cultura giuridica europea in particolare l'avvento delle questioni bioetiche sono datate in quegli anni lì abbiamo la convenzione di Oviedo 1997 la dichiarazione sul genoma e diritti umani dello stesso anno la dichiarazione sui dati genetici del 2003 la carta di Nizza il diritto qui vede allargarsi l'orizzonte di una delle sue categorie fondamentali l'autonomia la vicenda del consenso informato e l'accesso alle tecniche di procreazione assistita diventano i punti cardine di questa rivoluzione il diritto interno coincide con le interpretazioni che le corti europee danno al concetto di autonomia privata la quale da una matrice tipicamente civilistica finisce con la sbracciare sfere di libertà che eccezionalmente ricevono strumenti di attuazione è la nuova categoria dell'autodeterminazione è una vicenda dal forte impatto etico-sociale che coinvolge il rapporto legislatore giurisprudenza e potremmo dire che cristallizza l'odierna poligenesi del diritto ormai estensibile anche per la dottrina più prudente al diritto al cosiddetto diritto vivente 2004 legge 40 è riconosciuto l'interesse del concepito una sua dignità propria qui forse la vicenda più significativa simbolica potremmo dire ricordando Francesco D'Agostino è quella dell'embrione crioconservato perché la vicenda giuridica dell'embrione crioconservato è proprio l'archetipo di questo slittamento di una tutela di un interesse potremmo dire innato a una tutela funzionale ad altro perché nella versione originaria della legge 40 è vietata la crioconservazione ma è vietata perché è doveroso impiantare l'embrione nel momento in cui viene prodotto nell'utero della donna e quindi tutti gli altri embrioni non hanno ragione di esistere o meglio ci sono ce ne stavano già tanti e ce ne sarebbero stati altri ma sarebbe stato frutto di casi marginali di errori di vicende in cui a un certo punto l'embrione comunque nei fatti non veniva impiantato però non si pone il problema di qual è la sorte di questi embrioni crioconservato e le situazioni che potremmo dire fanno saltare questo schema è quando interviene la Corte Costituzionale e ribalta la prospettiva devo dire in realtà l'impianto di un embrione forzoso non l'aveva mai immaginato nessuno e quindi la decisione della Corte Costituzionale che dice che possono esserci degli embrioni sovranumerari e non c'è un obbligo coattivo di impianto nell'utero della donna era abbastanza scontata tecnicamente non poteva non essere così tuttavia cambia la lettura che viene dato al diritto all'assolute della donna perché mentre il legislatore della legge 40 mimando una situazione di naturalezza diceva massimo tre embrioni perché tre embrioni possono essere gestibili in una gravidanza e invece la Corte Costituzionale apre agli embrioni che sono necessari a fini di un trattamento che abbia un buon esito inevitabilmente a questo punto il numero degli embrioni salta e soprattutto ci saranno tanti embrioni crioconservati e allora i casi giurisprudenziali che denotano delle tendenze culturali per stare al tema ne segnalo due piuttosto significativi uno prima della legge 40 a un tribunale di Firenze e una successiva alla legge 40 recentissima un'ordinanza di gennaio del tribunale di Santa Maria Capoavetere che hanno a che fare con due vicende identiche diciamo una coppia che decide di andare verso una pratica di fecondazione assistita e che nel momento della formazione degli embrioni tuttavia succedono delle vicende in un caso la donna non poteva in quel momento subire l'impianto nell'altro caso la vicenda è più traumatica in ogni caso si crea un dissenso tra i due coniugi e il dissenso è tale che ci si domanda ma poiché la legge richiede che sia una coppia a fare istanza circa il trattamento attraverso la fecondazione assistita e se a un certo punto quella coppia non è più d'accordo cosa succede e allora il tribunale di Bologna prima della legge 40 dice che è vero che non ci può essere nessun impianto coattivo ci mancherebbe altro ed è altrettanto vero che tuttavia la donna potrebbe volere invece un impianto e il marito potrebbe in questi casi non volerlo più cosa succede si costruisce il diritto della coppia in un'ottica sociale di realizzazione della personalità in senso ampio di questo momento di solidarietà che porta due persone a costruire una vita insieme è come un disegno di prospettiva dove dentro c'è anche un potenziale bambino un figlio se si rompe questa lettura comune manca il presupposto per applicare la legge 40 all'epoca non c'era ancora la legge 40 ma comunque si rifiuta che a questo punto la donna possa chiedere un impianto marito non consenziente tribunale di capoavetere del gennaio di quest'anno ribalta dice no qui c'è anche l'interesse dell'embrione a proseguire il suo percorso vitale e tutto sommato essendo poi la donna quella che lo deve accogliere in grembo riteniamo che sia il soggetto nei cui confronti debba in ultima analisi attribuirsi questo diritto questo consenso all'impianto apparentemente sembrerebbe una evoluzione dal punto di vista della tutela dell'embrione perché diciamo il disvalore fra una l'argomentazione tribunale di Bologna è molto raffinata io l'ho resa un po' più semplice ma il tema è pensate anche qui l'humus culturale e che fa un bambino con un solo genitore non 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 si è mai pensato che un bambino possa essere preordinatamente messo nelle condizioni siamo dentro l'adozione no? non siamo siamo davanti a un'intenzione una volontà e quella volontà non può spingersi a immaginare un bambino che abbia solo la mamma e non abbia il papà tribunale di Bologna quindi meglio che non nasca ma non nasce non perché non è neanche stato ancora concepito ma che pur concepito è bene che la sua vita rimanga sospesa perché in una dinamica sociale comunque non si registrerà nella comunità di appartenenza un bambino che preordinariamente è messo nelle condizioni di avere un solo genitore capirete che qui c'è un'argomentazione molto interessante anche nell'ottica di questo sodalizio tra uomo e donna che completano con gli aspetti tipici del femminile e del maschile la formazione la crescita l'accudimento di un bambino ma in un'ottica preclusiva della messa al mondo di questo bambino tribunale di Bologna capo a vetere supera questo ostacolo ovviamente andando a una lettura potremmo dire anche un po' formalistica della legge 40 che a un certo punto dice c'è anche l'interesse dell'embrione e quindi l'interesse è quello di proseguire la la sua esistenza la valorizzazione della figura paterna e materna del tribunale di Bologna però non è innocente perché sta segnalando che anche la cultura secolarizzata prima della 194 aveva comunque una lettura che potremmo dire è una secolarizzazione ante causam e cioè che utilizza argomenti in fondo anche cari alla tradizione cattolica la famiglia ma in un'ottica di contrapposizione all'integrità della vita potremmo dire alla dinamica evolutiva della vita che a questo punto non è più prenatale perché il Natale non lo vedrà mai in questo in effetti si inseriscono valutazioni che vengono da lontano perché il caso di Bologna non nasce in un contesto tutto italiano va a prendere letture sia di dottrina sia di giurisprudenza di altri paesi che effettivamente nel valorizzare la necessità che ci sia una coppia poi indica anche una prospettiva che arriva ai nostri giorni e cioè che questa coppia non sia interessante per la differenza di genere potremmo dire ma è interessante per il progetto di vita in comune che è esattamente le decisioni gemelle della Corte Costituzionale sulla cosiddetta stepchild adoption che prendono in considerazione lì il caso ovviamente è legato al riconoscimento di una filiazione legata a una genitorialità di intenzione non allo status come definito dalla legge ma dietro c'è la stessa lettura che quel progetto di vita ha un valore in sé che prescinde dall'identità sessuale della coppia che va oltre e che inevitabilmente diventa un punto di riferimento per il benessere del bambino quindi potremmo dire che applicando l'evoluzione di quelle tesi del Tribunale di Bologna prima della legge sulla legge 40 nella evoluzione che ha avuto a livello addirittura costituzionale oggi gli esiti sarebbero diversi perché va da solo che se a un certo punto si può tutelare un progetto di vita quel progetto di vita può essere anche solitario perché deve essere insieme ad un altro quando viene meno le ragioni potremmo dire biologiche tradizionali esistenziali della differenza non si capisce per quale motivo non si possa legittimare a questo punto anche la richiesta da parte di un singolo dell'accesso alla pratica di fecondazione assistita e infatti è legittimata giustamente ci ricorda il professore Amato e proprio perché siamo dentro questo passaggio di una potremmo dire evoluzione giurisprudenziale che utilizza argomentazioni inizialmente in fondo care alla nostra tradizione per opporsi al diritto alla vita allo stesso tempo portandola all'evoluzione inevitabilmente probabilmente si avvicina anche a favorire a questo punto l'impianto dell'embrione ma l'impianto dell'embrione ha perso di significato non ha più il significato che gli attribuiva la legge cioè l'interesse perché a questo punto l'interesse effettivamente è quel desiderio giuridificato in quell'atto di volontà di accedere alla tecnica fecondativa artificiale è interessante sempre a livello di secolarizzazione della cultura e in particolare cultura giuridica perché tutte le decisioni che fanno questo salto di qualità tra virgolette nel immaginare che a un certo punto sia la volontà piuttosto che non l'interesse del minore la volontà in questo caso del genitore civile anzi del genitore di intenzione di determinare l'esito di un impianto o meno stanno molto attente a scardinare l'idea che questo significa una sorta di reificazione del bambino non è una res non è una cosa non è un oggetto e scrivono le pagine delle sentenze spiegando che non lo è altro è l'intenzionalità di portando all'estrema conseguenza questa dinamica propulsiva di diritti della personalità tali a questo punto da abbracciare nelle proprie condizioni di vita anche l'assistenza altrui e altro è invece il mercificare il feto o in particolare in questo caso l'embrione ma qual è invece l'esito di questa discussione culturale che sembrerebbe effettivamente allontanare l'idea che ci sia una sorta di reificazione del bambino l'esito è abbastanza scontato perché e qui le due sentenze della Corte Costituzionale sono Giuliano Amato stamattina diceva una cosa vera lui è stato l'estensore di quella sentenza non queste dove si dice che la surrogazione maternità va contro la dignità va contro giustissimo però e lui non è stato l'estensore delle due sentenze di cui adesso stiamo parlando però le due sentenze di cui ora stiamo parlando inevitabilmente legittimano la surrogazione di maternità perché nel momento in cui dicono va riconosciuta va riconosciuto e non va riconosciuto come dicono le sezioni unite perché le sezioni unite già avevano deciso il problema l'ha detto concretamente andiamo a vedere caso per caso che diritti attribuire a questo bambino che è nato in India o in Ucraina che a un certo punto è stato strappato dal grembo materno e comincia a crescere con una nuova tra virgolette famiglia e quindi vediamo concretamente che interessi ha e le sezioni unite andavano verso l'adozione dei casi particolari non legittimante quindi non l'adozione tucur come se fosse genitore naturale e la corte costituzionale non si accontenta di questa soluzione dice no ci vuole un intervento legislativo ci vuole un intervento legislativo perché ci sono tutti i legami di parentela che nell'adozione in casi particolari non ci sono c'è la necessità che anche l'altro soggetto possa avere voce in capitolo che invece in quel caso non c'è e quindi sta creando il presupposto per arrivare a una conseguenza normativa perché richiama espressamente il legislatore perché prenda atto che ci sono dei bambini che pur nati attraverso la pratica dell'utero in affitto hanno i diritti come gli altri bambini di essere riconosciuti figli figli dei genitori che in questo caso sono genitori di intenzione e non sono genitori naturali e l'effetto ovviamente non è quello che rimuovere intanto il genitore naturale le due sentenze non parlano del genitore naturale le due sentenze una ovviamente riguardava l'uomo e quindi era nella banca del seme e lì potremmo dire che c'è un abbandono totale della prospettiva di essere padre ma diverso è la donna in surrogazione che per nove lunghi mesi ha nel suo utero un feto e che poi in forza di un contratto deve lasciare che questo bambino vada con altri e quindi e qui l'autonomia negoziale tipica per le res viene applicata a una vicenda esistenziale che è quella invece della messa al mondo di un bambino e qui su questa seconda vicenda non ci sono richiami ontologici alla figura della madre portante si dice che è un reato è un reato aberrante ovviamente non dissattende la sentenza che aveva scritto Giuliano Amato ci mancherebbe altro però dice altro invece vedere quali sono i diritti in questo caso del nascitore del bambino inevitabilmente con questa procedimentalizzazione che quindi postula una norma e ci ritroveremo con un bambino che non avrà possibilità di reclamare una genitorialità naturale né una mamma portante che potrà lei reclamarla in caso ad esempio di ripensamento laddove ci fosse una legge che agisce sugli status perché gli status stanno sopra i contratti ovviamente e quando lo status viene chiarito dalla norma non c'è contratto che tenga mentre in assenza della norma potrebbe esserci un ripensamento in alcuni ordinamenti ci saranno assicurazioni clausole risarcitori immense e l'ordinamento giuridico italiano si continuerà a dire alla madre ecco lei che ha partorito punto e quindi bisognerà dimostrare che quel bambino è stato abbandonato e poi quel bambino non viene assegnato alla coppia che aveva commissionato la surrogazione maternità no va nella lista di tutti i bambini adottabili e poi dopo il vaglio delle idoneità di coppie potenzialmente in grado prima di prendere in affido e poi in adozione quel bambino si sceglierà la coppia che a detta del magistrato è quella più congeniale per la crescita di quel bambino questa è norma di civiltà su questo punto invece la corte costituzione lancia l'idea che c'è bisogno di un'altra norma portando come conseguenza quello che la giurisprudenza tentava invece di disattendere che non c'è una reificazione del bambino perché invece c'è a questo punto una reificazione del bambino perché se non si utilizza la norma attributiva delle status tipica delle adozioni che come conseguenza poi lo attribuisce come se fosse figlio del genitore naturale con una procedura di diritto pubblico non di diritto privato tant'è che è convolto anche il magistrato minorile tant'è che sono convolti gli assistenti sociali tant'è che c'è lo psicologo che intervista la coppia che vuole essere dichiarata in grado di adottare tutto questo viene rimosso in forza evidentemente di un'intenzione che significa contratto e ma allora dentro il contratto è entrata la vicenda della maternità e volenti o nolenti poiché i contratti grazie a Dio non possono avere come oggetto dei soggetti se no ritorneremmo alla schiavitù vuol dire che si interpreta questa vicenda come che l'embrione che viene impiantato nell'utero di una donna straniera sia in questo caso oggetto di un contratto che inevitabilmente ne fa un elemento di merce poi per carità nel dibattio ci sta l'altruismo che viene conclamato perché ci sono situazioni limite dove invece c'è un caso di sterilità e quindi un parente stretto un'amica adesso questi casi sono degnissimi e interessantissimi ma il diritto entra in gioco con gli interessi sociali della collettività con i macro problemi non i micro problemi perché le norme sono generali astratte e riguardano tutti e non riguardano singole questioni e quindi si arriva a una vicenda che disattende tutti i tentativi che la nostra la nostra giurisprudenza ha cercato di tenere di tenere lontano questa è l'ultima fase delle delle nostre della mia carrellata la consulta non azzarda esiti formalmente legittimanti della genitorialità di intenzione praticata con la tecnica della maternità surrogata e si arresta davanti all'intuitivo disvalore sociale della pratica vietata e pesantemente stigmatizzata se però la consulta avesse scavato più a fondo sulle ragioni ultime del disvalore penalistico delle norme perché ovviamente lo rimarca il disvalore penalistico avrebbe rintracciato non solo le ragioni che ci ha ricordato Giuliano Amato ma anche uno strettissimo legame biologico esistenziale che si attriva tra la madre e il feto di qualità diversa rispetto al legame solo e puramente genetico tra il donatore del gameta e il generato le due decisioni sembrano tutte e due appartenere allo stesso genus ma non è così poi nel monito finale la consulta si riscatta parzialmente perché in un caso è molto determinato nel dire con riferimento all'eterologa maschile nel dire che il Parlamento deve necessariamente intervenire nell'altro caso dice il Parlamento valuti dentro la propria sovranità quali possono essere le soluzioni pur dicendo che la soluzione delle sezioni unite non è appagante in definitiva tornando al problema del metodo segnalato all'inizio credo che vada rifiutata vada rifiutata il dogmatismo della giurisprudenza dei concetti ciò anche e soprattutto quando come avviene sempre più di frequente nei nostri tempi interventi continui e disorganici della legge rendono straordinario lo sforzo di sistemazione richiesto all'interprete che lo induce fatalmente a farsi legislatore l'obbedienza richiesta al giurista e in fondo anche al giurista cattolico nei confronti del dato positivo e per dirla con Philip Eck un'obbedienza non cieca ma pensosa riflessiva costantemente attenta a cogliere le opzioni di ordine valutativo del legislatore e a tenerne adeguatamente conto anche nella soluzione e nella ricaduta sul sistema dei casi non espressamente regolati questa potremmo dire che è una sana secolarizzazione della cultura e del diritto attraverso magari una strada tutta italiana legata a queste vicende vi ringrazio grazie 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 grazie